Musica Coronavirus in fase di completamento, un reparto per la gestione dei casi COVID da altri 10 positivi a Sala Consilina si teme il picco. Vallo di Diano controlli serrati sugli spostamenti, le forze dell'ordine ci sono. Polla, il Lions teggiano Polla Tanagro dona un ventilatore polmonare all'ospedale. Ispani si insedia un nuovo commissario al posto di Amendola, arriva Vincenzo Monaco ed emette un'ordinanza restrittiva per contenere il coronavirus. Sanza, BCC di Buonabitacolo e Arci Confraternita, Maria Santissima della Neve in aiuto della protezione civile. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Nel Vallo di Diano sono circa 30 i casi di contagio da coronavirus, altri 10 sembra siano stati accertati nella giornata di ieri a Sala Consilina, tutti in isolamento domiciliare, tutti sotto controllo dei sanitari. Intanto all'ospedale di Polla è quasi pronto il reparto Covid per la gestione delle emergenze in previsione del picco. Altri 10 casi di persone affette da coronavirus a Sala Consilina che ha fatto salire a 30 i casi di contagio da Covid-19. Gran parte di essi sono in isolamento domiciliare tenuti sotto stretta osservazione dal personale del Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell'Asla di Salerno che si sta occupando proprio della gestione dei casi domiciliari. Intanto presso l'ospedale di Polla, dove la situazione sembra sotto controllo, sono addirittura d'arrivo i lavori per l'allestimento di un reparto Covid per trattare con terapie adeguate i casi di coronavirus per i quali non è possibile la cura domiciliare ma necessitano di costante monitoraggio medico-sanitario. Il Luigi Curto, viste le difficoltà che si stanno incontrando per il trasferimento dei pazienti, presso altro non so comi, è quasi pronto per la gestione dei pazienti direttamente in loco, grazie anche a canali veloci che consentono un rapido approvvigionamento dei medicinali per la terapia. Presso il Curto, quindi, si sta lavorando a lacremente per essere pronti ad un'eventuale emergenza. Basti pensare che nel Vallo di Diano sono circa 28 i pazienti Covid in isolamento domiciliare, quindi potenziali degenti, almeno fin quando non arriva diagnosi di negativizzazione del paziente. Già questi numeri fanno capire come, in brevissimo, per quanto si stanno allestendo reparti e aree di isolamento ad hoc, l'ospedale di Polla potrebbe arrivare al collasso, viste anche le note difficoltà legate al ridotto numero di personale sanitario. Ecco perché è sempre più importante e necessario limitare al massimo le uscite e rafforzare la consapevolezza dei rischi che si corrono. Se i pazienti al momento in isolamento dovessero aggravarsi, non ci sarebbe più posto per nessuno in ospedale, per quanto ci si sta attivando per creare i posti necessari. Difficile è anche reperire i posti in altri ospedali campani, dato che i numeri presentati nella serata di ieri dall'unità di crisi della Regione Campania parlano di 749 persone ad oggi risultate positive al Covid-19, 108 e test positivi ieri su 699 tamponi analizzati. Si tratta di una percentuale del 15,5% in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Ciò non vuol dire che si sia arrivati alla fase calante, ma potrebbe significare che il picco non è ancora arrivato. Quindi è fondamentale restare a casa ed uscire solo per motivi urgenti ed indifferibili legati al lavoro o alla salute, limitare al massimo anche le uscite per la spesa e far sì che la scorta delle derrate alimentari se ne occupi una sola persona per famiglia. Sono assolutamente da evitare tutti i tipi di contatti con altre persone che potrebbero anche essere asintomatiche, ma comunque portatrici del virus. E arriva l'esercito in Campania, in provincia di Salerno, per dare sostegno alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine nel verificare il rispetto delle norme sugli spostamenti. Intanto però la presenza delle forze dell'ordine nel Vallo di Viano è costante. Arriva l'esercito in Campania, Salerno e provincia saranno in strada. 60 militari su disposizione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica congiunto delle città metropolitane di Napoli e la provincia di Salerno che si è svolto ieri. La logica vuole che si parta dai comuni attualmente in quarantena, quindi Areano Erpino, i quattro comuni di Sala Consilina, Polla, Caggiano e Atena Lucana. Nulla di certo è stato ancora stabilito, le nuove divise saranno stanziate sul territorio, sempre e comunque in relazione alle esigenze dei vari comuni, in considerazione del picco di contagio e della percentuale di irresponsabili da gestire. L'esercito arriva per dare sostegno alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine nel verificare il rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio e le ordinanze del Presidente dell'Aggiunta regionale. Per quel che riguarda il Vallo di Viano c'è già il lavoro egregio che sta facendo oltre alla Polizia e alla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina al comando del Capitano Davide Acquaviva. Sono serrati e costanti controlli per verificare il rispetto delle disposizioni. I carabinieri stanno sorvolando in questi giorni su tutto il Vallo di Diano, in particolare sui quattro paesi zona rossa, per assicurare che le comunità abbiano capito come comportarsi. Fortunatamente è minima la percentuale di indisciplinate, almeno da queste parti, che comunque ci sono e non hanno ancora capito quanto è pericoloso stare ammassati, come è successo ieri davanti all'ufficio postale di Via Mezzacapo a Sala Consilina, dove si è visto un assembramento di persone in attesa di entrare, ferme là da aspettare senza rispettare la distanza di sicurezza. Ma in linea di massima, qua nel comprensorio, la situazione è tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine molto presenti sul territorio. A Salerno invece pare ci sia ancora troppa gente per strada e sulle spiagge, come dimostra il video divenuto virale di un elicottero dei carabinieri che ieri ha trovato un gruppetto di giovani a prendere il sole sulla scogliera di Pastena ed è stato costretto ad avvicinarsi per farli allontanare. Il decreto Cura Italia è arrivato ed ora è necessario ricevere adeguate informazioni per capire in che modo il Governo viene incontro alle esigenze dei cittadini. La Banca Montepruno è a disposizione di famiglie e imprese per fornire tutte le informazioni necessarie. Il decreto Cura Italia vede in prima linea le banche chiamate a fornire adeguato supporto a famiglie e imprese in questo periodo di grave crisi dovuta al propagarsi del coronavirus. La Banca Montepruno ha quindi voluto da subito diffondere alcune delle principali misure previste dal decreto al fine di fornire un utile servizio alla clientela che oggi più che mai non ha la possibilità di potersi informare direttamente presso le filiali a cui si può accedere solo se strettamente necessario cercando di preferire i servizi online. Assicurando comunque la disponibilità da parte dei responsabili delle diverse aree ed in particolare dell'area clienti pronti a fornire tutte le informazioni necessarie telefonicamente, l'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese ha voluto da subito presentare alcuni degli interventi previsti dal decreto al fine di fornire un primo quadro generale sulle possibilità offerte e sull'aiuto che la Banca Montepruno potrà offrire alle imprese e alle famiglie. Le misure previste dal decreto del 17 marzo scorso riguardano la sospensione delle rate sui mutui prima casa non superiori a 250.000 euro, ad esempio, già prevista dal Fondo di Solidarietà e rivolta a famiglie e soggetti che si trovano in temporanea difficoltà economica dovuta alla sospensione o alla cessazione del rapporto di lavoro o riduzione dell'orario lavorativo. Con il nuovo decreto, fanno sapere dalla Banca Montepruno, è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di 18 mesi, 9 più 9, prorogandone così la scadenza, mentre il Fondo di Solidarietà provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Oltre ai mutui prima casa, la sospensione del pagamento delle rate si applica anche ad altri mutui. Questa è solo una delle misure previste che vedono gli istituti di credito in prima linea nella gestione dell'emergenza economica che il Paese deve affrontare, viste le difficoltà che il coronavirus ha provocato nel mondo lavorativo ed economico in generale. In questo percorso, la Banca Montepruno scende in campo per cercare di venire incontro alle esigenze dei propri clienti ed in particolare di famiglie e di imprese, assicurando la massima disponibilità a valutare insieme le modalità migliori per risolvere eventuali problematiche derivanti dalla difficoltà dovuta al propagarsi rapido della pandemia da Covid-19. L'ASL di Salerno attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha disposto un servizio di disinfezione che sarà effettuato sul territorio urbano pubblico di tutti i comuni rientranti nella propria competenza territoriale. Il trattamento verrà effettuato con impianti irroranti montati su autocarri che tratterranno la sede stradale fino ad un'altezza di 2,53 metri. Le aree esterne accessibili delle strutture a gestione ASL in zone non raggiungibili dall'autocarro verranno utilizzate le attrezzature manuali. I cittadini sono invitati ad adottare le consuete misure di cautela atti ad evitare possibili contaminazioni a persone, cose, animali o generi alimentari. Le amministrazioni comunali provvederanno ad avvisare la popolazione con impianti sonori prima dell'inizio del trattamento che sarà effettuato nelle ore serali a partire dalle ore 20 secondo il calendario stabilito. Si parte questa sera il calendario con tutti i dettagli potete trovarlo sul nostro sito web e sulle nostre pagine social. Andiamo avanti. Importante iniziativa di solidarietà a sostegno dell'ospedale Luigi Curto di Polla ieri i soci del Lions Teggiano Polla a Tanagro preseduto da Giuseppe Curcio hanno donato un ventilatore polmonare. Un'altra importante iniziativa di solidarietà a sostegno dell'ospedale Luigi Curto di Polla si registra in questi giorni di particolare preoccupazione legata all'emergenza coronavirus. Un momento difficile che il Valdo di Diano sta cercando di superare anche grazie alla generosità di associazioni, imprenditori, organizzazioni di volontariato e semplici cittadini che danno il proprio contributo per potenziare le strutture sanitarie locali messe a dura prova dall'emergenza. Ieri si è registrato il bel gesto dei soci del Lions Teggiano Polla a Tanagro preseduto da Giuseppe Curcio che hanno donato un ventilatore polmonare all'ospedale di Polla, uno degli strumenti più importanti per affronteggiare il coronavirus, il cui acquisto è stato deciso in sinergia con il direttore sanitario Luigi Mandia e con il responsabile amministrativo il dottor Domenico Loviso. La proposta è stata avanzata dal socio Pasquale Lamura ed è stata subito accolta dalla compagine direttiva composta dal presidente Giuseppe Curcio e dagli altri membri Angelo Pagano, Enzo Santini, Valentino Di Brizzi, Carmine Cardinale, Giuseppe Pinto, Marino Criscuolo, Giuseppe Perito e Giampiero Caffaro. Pur vivendo un momento difficile anche dal punto di vista economico per via del fermo delle attività dovuto all'emergenza, gli imprenditori soci hanno scelto di mettere in primo piano la salute dei concittadini valdianesi, mettendo a disposizione le risorse necessarie per l'acquisto del ventilatore polmonare. Nel ringraziare i soci del Lions Tejano Pollatanagro, il presidente Curcio ha annunciato l'impegno del club per altre iniziative di solidarietà a sostegno della sanità locale contro il coronavirus e ha lanciato un appello a restare a casa per evitare il diffondersi del contagio. Questa guerra, ha detto, la vinciamo stando sul divano. L'iniziativa ha preso inizio già giovedì scorso, per cui abbiamo lavorato innanzitutto al reperimento dell'attrezzatura, perché la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo chiesto al direttore sanitario, il dottore Mandia, quali erano e cosa era indispensabile, diciamo, affinché poter sostenere la struttura sanitaria e fronteggiare questo bruttissimo momento che stiamo vivendo. E quindi chiaramente il dottore ci ha dato delle indicazioni, tra cui uno degli strumenti più importanti sono chiaramente i ventilatori, cosa che ci siamo messi insieme alla struttura e immediatamente alla ricerca e oggi siamo riusciti a concretizzare con la consegna. Insieme ai miei amici del club stiamo valutando ancora altre iniziative, ma prima di divulgarle vogliamo essere sicuri di poterle mettere in atto, perché il primo problema è reperire ciò che veramente serve. e parliamo chiaramente di attrezzature concrete, non è la consegna degli alimentari all'ASL, non è ciò che serve, ma servono attrezzature, mascherine, barelle, per isolamenti, ventilatori, non è facile reperire lì sul mercato, però stiamo già lavorando ad altre cose. Il ventilatore è stato acquistato con i soldi del Lions o avete fatto una raccolta a fondi? No, 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 è una raccolta fatta all'interno del club Lions Club. Una sola cosa, io invito tutti a rimanere a casa. Questa guerra la vinciamo stando sul divano. E ripeto, ringrazio ancora i soci del club di cui mi onorò di rappresentare. Furti in casa a Battipaglia, nonostante i rischi legati al coronavirus, due marocchini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione locale trovati in un appartamento dove si erano impossessati di alcuni oggetti. Furto in casa al tempo del coronavirus a Battipaglia, arrestati due marocchini, l'operazione è stata condotta dai carabinieri della locale compagnia, intervenuti mercoledì sera su segnalazione in via del Centenario all'interno di un appartamento vuoto al piano terra di uno stabile. Nell'abitazione i militari dell'arma hanno scoperto sotto i letti due marocchini di 25 e 32 anni senza fissa dimora. Gli ladri erano entrati da una finestra, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di due orologi e della patente di guida del proprietario di casa, poco prima asportati e successivamente restituiti. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondare di Salerno e definiti anche per inosservanza del decreto del governo sulle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Dai primi mesi dell'anno la compagnia dei carabinieri di Battipaglia è fortemente impegnata con i reparti dipendenti in controlli straordinari del territorio per la prevenzione di reati predatori e lo scorso 6 marzo i militari dell'arma hanno dato esecuzione a nove provvedimenti restrittivi a carico di una banda di rumeni tutti pregiudicati che nel 2018 aveva messo a segno circa 25 furti ai danni di aziende operanti nei territori di Battipaglia, Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano Faiano. Ancora cronaca, sgominata una piazza di spaccio a Casalbuono l'operazione dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva ha permesso di scoprirla nel centro storico di Casalbuono tre le persone denunciate, due lucane e una valdianese tra le tre vi era una guardia giurata a cui è stato revocato il titolo. Andiamo avanti Lo scorso 18 marzo si è insediato ad Ispani il nuovo commissario prefettizio al posto di Vincenzo Amendola e è arrivato Vincenzo Monaco primo atto l'emissione di un'ordinanza restrittiva contro la diffusione del coronavirus. Cambio al commissariato comune di Ispani Alcuni giorni fa si è insediato un nuovo commissario prefettizio che dovrà traghettare l'ente comunale a nuove elezioni che molto probabilmente, visto anche quanto sta accadendo in Italia con la rapida diffusione della pandemia da coronavirus saranno posticipate ed è proprio la gestione dell'emergenza epidemiologica uno dei primi atti sottoscritti dal neocommissario prefettizio Vincenzo Monaco Il dottor Monaco subentra al vice prefetto di Salerno Vincenzo Amendola che dopo un mese circa dal suo ingresso nella casa comunale del piccolo comune del Golfo di Policastro ha ricevuto un nuovo incarico per la guida del comune di Pagani fino a prossime elezioni Da metà febbraio il comune di Ispani non ha più un consiglio comunale a guidarlo a seguito delle dimissioni di sei consiglieri comunali tre della minoranza e tre della maggioranza che hanno portato al decadimento del sindaco Marilinda Martino dalla carica di primo cittadino seppur arrivate al ridosso delle elezioni comunali di primavera La durata della fase di commissariamento però potrebbe durare più del previsto con le elezioni che secondo indiscrezioni si vorrebbero posticipare ad autunno vista l'emergenza epidemiologica che sta interessando tutta l'Italia e che necessita di attenta gestione con il divieto assoluto di assembramenti che sarebbero inevitabili invece in caso di elezione Ecco quindi che per guidare il comune di Ispani per questo lungo periodo arriva il dottor Vincenzo Monaco che nei giorni scorsi ha emanato ordinanza commissariale per regolare le entrate e le uscite nel comune di Ispani da altri comuni in applicazione ai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri Possono entrare in comune solo coloro che hanno residenza o domicilio a Ispani e comunque dovranno osservare un periodo di isolamento volontario di 14 giorni Vietato l'accesso a Ispani per viaggio soggiorni e si può entrare sul territorio comunale solo se si esercita regolare attività lavorativa che rientra tra le attività ritenute essenziali Vietato inoltre l'esercizio dell'attività di commercio itinerante a tutti coloro che provengono da altri comuni Disposizioni ed obblighi validi fino al prossimo 3 aprile salvo proroga Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Bentornati in studio il Sindaco e il Consiglio Comunale di Polla si fanno promotori di una raccolta fondi facendo appello alla sensibilità di imprenditori istituti di credito, compagnie di assicurazione, professionisti, commercianti e comuni cittadini del territorio di Polla ma anche dei sindaci e dei consigli comunali di altri comuni del Vallo di Diano affinché accolgano l'appello facendosi loro stessi promotori di questa iniziativa la raccolta fondi servirà per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni mediche quali ventilatori, respiratori, presidi sanitari e altro nonché per sostenere tutte quelle persone che sono già interessate drammaticamente dall'emergenza sanitaria e sociale in atto tutti i dettagli su come procedere alla donazione sono reperibili sul nostro sito web e sulle nostre pagine social andiamo a stanza dove continuano gli aiuti a favore della sezione locale della protezione civile, questa volta arrivano dalla BCC di Buonabitacolo e dall'arci confraternita Maria Santissima della Neve Continuano a stanza le iniziative di solidarietà a favore della sezione locale della protezione civile che sta svolgendo anche lì come in tutti gli altri comuni un lavoro incredibile di assistenza alla popolazione per affrontare l'emergenza coronavirus dalla consegna dei farmaci a domicilio alla spesa per chi non può muoversi da casa dalla consegna delle mascherine a chi ne necessita al presidio del territorio 24 ore su 24 grazie ad un gruppo di ragazzi volenterosi una mano silenziosa, costante e concreta che non passa inosservata sia la BCC di Buonabitacolo che l'arci confraternita Maria Santissima della Neve hanno infatti deciso di contribuire alla causa rendendo meno gravoso il loro lavoro L'attività della protezione civile infatti ha colpito la BCC di Buonabitacolo che ieri sera ha destinato un contributo economico per superare le diverse emergenze per l'acquisto di presidi sanitari urgenti per la comunità e la nostra gente è la parte migliore della nostra società incarnata da coloro che dedicano il loro tempo agli altri ha commentato il direttore generale Angelo De Luca ragazzi che si sono messi in prima linea per aiutare la comunità a superare questo momento di grandi difficoltà siamo orgogliosi di loro e il nostro è solo un piccolo gesto di solidarietà al quale seguirà tutto l'aiuto possibile e un aiuto economico alla protezione civile ieri sera è arrivato anche dall'arci confraternita Maria Santissima della Neve siamo commossi dal prezioso lavoro che questi ragazzi stanno svolgendo in silenzio e ininterrottamente da giorni siamo grati, ha commentato il priore Antonio Laveglia per la loro dedizione e con questo nostro gesto abbiamo solo voluto sottolineare la nostra vicinanza a chi si spende per gli altri nei momenti difficili Dopo Polla e Atena Lucana anche Monte San Giacomo, Sanza e Salvitelli attivano il servizio gratuito di supporto psicologico a disposizione dei cittadini in questa fase delicata che stiamo vivendo di isolamento ed emergenza a Monte San Giacomo saranno due gli psicoterapeuti che a titolo volontario forniranno sostegno a quanti ne sentissero la necessità il dottor Marco D'Alto e la dottoressa Anna accetta Salvitelli invece sarà la dottoressa Filomena Vitale a dare una mano al comune per aiutare le persone in questo momento complesso a Sanza la dottoressa Sabina Citerà darà una mano sempre a titolo gratuito a chi ne avrà bisogno, ansia, paura, confusione, rabbia, sospetto sono infatti emozioni comuni in questo momento ma non tutti sanno affrontarle da soli è importante conoscere queste emozioni per non venirne sopraffatti a questo serviranno i servizi messi a disposizione dai comuni andiamo a Salvitelli ancora un bel gesto di solidarietà scusate contro il coronavirus il signor Simone Perretta ha donato alla comunità mascherine di protezione che i dipendenti comunali distribuiranno all'intera popolazione La macchina della solidarietà contro il coronavirus si è attivata anche a Salvitelli grazie alla generosità di tanti cittadini che pur vivendo fuori sono legati al territorio comunale e hanno contattato il primo cittadino Maria Antonietta Scelsa per mettere a disposizione il proprio aiuto tra loro anche il signor Simone Perretta che vive a Prato ma è molto legato a Salvitelli in quanto la madre, la signora Maria Isoldi è proprio di origini salvitellesi Perretta ha deciso di fare un importante gesto in questo momento di particolare difficoltà che l'intero paese sta vivendo a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus in cui è difficile anche solo trovare alcuni semplici presidi sanitari come le mascherine di protezione ed è così che il signor Perretta ha donato alla comunità salvitellese un'ingente quantità di mascherine usa e getta e chirurgiche che saranno distribuite all'intera popolazione in queste ore due dipendenti comunali stanno lavorando all'imbustamento delle mascherine e alla catalogazione attraverso un elenco dei nuclei familiari e dei residenti per una distribuzione equa il sindaco Maria Antonietta Scelsa ha ringraziato il signor Perretta a nome dell'intera comunità di Salvitelle grazie per il pensiero, per il gesto in questo momento così delicato dove anche reperire una mascherina è un qualcosa di molto difficile il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero alle persone indigenti affermando che è necessario lavorare per sostenere anche le loro esigenze infine nel ringraziare la stazione Carabinieri di Caggiano per l'incessante lavoro che sta svolgendo ha lanciato un appello ai cittadini a continuare a restare a casa insieme, ha concluso, con responsabilità supereremo questo triste momento è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi anche oggi buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti